Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Bentornati alla nostra serie dedicata alla nascita dell'Islam e a come gli arabi, partendo dalla penisola araba, nel giro di pochi anni siano riusciti a creare un impero gigantesco che ha cambiato la storia del mondo. Siamo arrivati con questa settimana a parlare effettivamente delle prime vere espansioni. Abbiamo raccontato venerdì della prima vera puntata di conquista al di fuori dell'Arabia, quella che aveva portato gli arabi alla conquista della Mesopotamia Sasanide. In questa puntata ci spostiamo invece verso ovest per raccontare del primo attacco contro il Levante Romano, cioè la prima vera invasione fatta dai musulmani della Palestina, della Siria e poi via via sempre più verso nord e verso ovest. Sarà una storia che, come abbiamo già anticipato in queste e nelle puntate delle prossime settimane, continueremo a raccontare saltando tra questi due fronti per cercare di capire quanto incredibile fosse lo sforzo di queste popolazioni. Ma vi anticipo che in questa puntata aggiungeremo un po' di notizie particolari legate a come gli storici moderni interpretano alcune di queste invasioni, cosicché, alla luce anche di questo che vi racconterò, possiate rivalutare alcuni punti del racconto che faremo appunto questa settimana e la prossima. Di cose da raccontare ce ne sono parecchie, di battaglie, di personaggi importanti, quindi basta chiacchiere. Vi dico ancora, se non siete ancora iscritti al canale, di farlo. Cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video. Se volete recuperare le altre puntate di questa miniserie, in descrizione, ovviamente sotto il video, trovate la playlist con tutti gli episodi che vi servono. Adesso però sigla e poi iniziamo a raccontare. Se avete seguito questa serie puntata dopo puntata, vi ricorderete che in realtà abbiamo già parlato di attacchi portati dagli arabi musulmani verso il territorio dell'impero romano. Abbiamo ad esempio raccontato di come nel 629 d.C. Maometto avesse ordinato circa 4.000 dei suoi di spostarsi verso l'Arabia Petrea, cioè la Giordania, cercando di colpire alcuni villaggi arabi per convincerli a convertirsi all'Islam. Le cose non erano andate benissimo perché, secondo il loro racconto, si erano scontrati con un esercito romano, probabilmente in realtà fatto da arabi cristiani alleati dei romani, i quali li avevano sconfitti nella battaglia di Mutà, una battaglia che aveva appunto visto la sconfitta delle forze musulmane, ma che aveva anche visto l'ascesa come comandante musulmano di Khalid ibn Walid, il quale, inizialmente comandante in seconda, terza, quarta categoria, scegliete voi, grazie alla morte dei suoi superiori, si era trovato a comandare il contingente musulmano ed era riuscito a sganciarlo e a salvarlo da distruzione. Cosa aveva fatto poi nei mesi successivi? Lo abbiamo poi raccontato. Una seconda puntata, in territorio romano, anche se veramente proprio al confine, era invece avvenuta l'anno successivo, nel 630, quando forze musulmane si erano portate a Tabuc, lungo il Mar Rosso, che era sostanzialmente la punta più meridionale dell'impero romano. Potete capire che non è che i confini fossero proprio tracciati con il righello, si parla sempre di città che giurano fedeltà, pagano tributo e così via. In realtà, però, secondo la versione araba, la prima vera invasione fatta del territorio romano sarà quella che vi andrò a raccontare nella puntata di oggi. C'è un problema. Secondo gli storici, questo è assolutamente falso. È falso perché abbiamo una serie di fonti cristiane, comunque levantine dell'epoca, le quali ci raccontano una storia decisamente diversa. Ci raccontano che, da quando l'imperatore Maurizio aveva dissolto il regno dei Gassani, cioè quel regno di arabi cristiani che proteggeva il sud dell'impero e che era alleato appunto dell'imperatore, quando questo regno era stato dissolto, quella funzione di filtro, di tappo contro le popolazioni arabe che si spingevano a razziare le città romane era terminato e da quel momento gli arabi avevano iniziato ad attaccare a più ondate l'impero, ogni volta, ovviamente limitandosi a razziare, a colpire convogli, conquistare città e poi ritirarsi portandosi via degli schiavi, ma ovviamente danneggiando la situazione dell'impero. Questa situazione era poi andata peggiorando negli anni successivi, perché se prima l'impero faceva fatica a rispondere perché non aveva delle truppe per mantenere un confine così lontano, quando poi scoppiò la guerra con i Sasanidi, la situazione peggiorò ancora, perché prima l'impero ancor meno aveva truppe da utilizzare in questa zona e poi, quando i territori del Levante vennero conquistati dai Sasanidi, questi si guardarono bene dal difendere queste zone così periferiche, preferendo concentrare le truppe su quelle più ricche, quindi ad esempio l'Egitto, la Siria e poi ovviamente cercando di puntare verso l'Anatolia, lasciando ancora più agli arabi la possibilità di avanzare. Una delle fonti più particolari è la fonte di un monaco che scrive nel 614 d.C., quindi nel momento in cui Gerusalemme cade nelle mani dei Sasanidi, il quale scrisse di non riuscire a tornare al suo monastero che si trovava a Gerico, quindi un po' di chilometri a nord-oveste della, nord-est, chiedo scusa, di Gerusalemme, a nord del Mar Morto, a causa della presenza di predoni ebrei, probabilmente che si trovavano lì a causa di scontri precedenti tra romani, cristiani ed ebrei, e soprattutto di predoni saraceni, dove con saraceni si indicavano, come abbiamo già raccontato, gli arabi che avevano uno stile di vita nomade, mentre gli arabi erano quelli che invece erano stazionari che vivevano, ad esempio, di coltivazioni o di commercio. Insomma, molto prima che il califo Abu Bakr lanciasse la sua reale invasione del Levante, quella che racconteremo oggi, in realtà gli arabi già lo stavano facendo da tanti anni e quindi quando si spinsero verso nord, lo fecero lungo delle strade che conoscevano benissimo, attaccando città che probabilmente avevano già razziato e portando con sé anche delle tribù e delle popolazioni, tra poco spiegherò il perché, che probabilmente erano sicure che quella sarebbe stata una razzia per cui arricchirsi. Ad ogni modo, a progettare questa prima spedizione, che partirà nei primissimi mesi del 634 d.C., fu il primo califo, primo successore di Mahometto, cioè Abu Bakr, il quale però non ne vedrà la conclusione, per cui abbiamo raccontato pochi mesi dopo, nell'agosto del 634 morirà venendo sostituito da Umar. Ad ogni modo, Abu Bakr aveva preparato un piano apparentemente molto semplice, che però ci fa capire come probabilmente gli arabi non avessero ben chiara quale fosse la reale situazione dell'impero romano. Ora, l'impero stava uscendo da una guerra molto faticosa contro i Sasanidi. Certo, era stata una vittoria, era riuscita ad ottenere tutti i suoi territori, Eraclio era considerato praticamente quasi una divinità scesa in terra, un messaggero di Dio per quello che era riuscito a ottenere, ma di certo era un impero che faceva molta fatica a reggere ad eventuali attacchi, proprio perché di truppe ne aveva poche, mancavano i soldi, mancava tutto per poter reagire. Era però un impero che appunto era tornato in pace, e dato che non si sapeva quando e come avrebbe potuto reagire, Abu Bakr preparò un piano per una specie di attacco simultaneo portato lungo quattro direttrici. Creò quattro eserciti, quattro eserciti affidati a quattro generali diversi, ognuno ovviamente di sua fiducia, i quali avrebbero dovuto lasciare l'Arabia, nella sua parte più occidentale, diretti verso nord, inizialmente viaggiando insieme, per poi pian pianino iniziare a separarsi. Uno di questi avrebbe dovuto raggiungere la Palestina, uno avrebbe dovuto fermarsi nell'Arabia Petrea, quindi in Giordania, uno avrebbe dovuto attaccare la parte meridionale della Siria, e l'ultimo avrebbe dovuto spingersi fino nel nord della Siria, ovviamente raggiungendo queste zone per poi conquistare le varie città. Perché però partivano insieme e rimanevano insieme per così tanto tempo? Perché nel caso in cui i Romani avessero contrattaccato con un esercito, gli eserciti arabi molto mobili avrebbero potuto riunirsi per poi combattere tutti insieme. Insomma, era una tattica molto prudente, e oggettivamente anche molto intelligente. Ora, io continuo a parlare di eserciti arabi, e parlo anche nell'introduzione di marea araba che conquista tutto questo impero, ma secondo gli storici le cose non stanno esattamente così. Nel senso che la versione classica dice che questi eserciti erano composti esclusivamente da arabi musulmani, anzi, erano composti da quegli arabi musulmani che durante la guerra della Ridda erano rimasti fedeli ad Abu Bakr, perché questi inizialmente non aveva accettato che a questi attacchi, queste razzie che potevano portare grandi guadagno, partecipassero le tribù che gli si erano ribellate. Sarà poi il suo successore Umar di lì a poco a permettere anche a loro di partecipare, qua ad un certo punto sarà necessario avere più soldati. In realtà, secondo gli storici, questa cosa non è corretta, e informazioni del fatto che non sia corretta li si trovano anche qua e là in mezzo a qualche storico musulmano, che scrive magari un secolo e mezzo, due secoli dopo, che qualche piccolo accenno se lo fa sfuggire. Ad esempio, si è abbastanza convinti che a questo esercito ad un certo punto si unirono anche degli arabi cristiani, i quali però non si convertirono o comunque non lo fecero subito, ma semplicemente quando si resero conto che i loro fratelli musulmani stavano razziando, decisero di astare dalla parte del vincitore, tanto che avremo arabi cristiani che si uniranno all'armata del califo e arabi cristiani che continueranno a combattere insieme ai romani, spesso per difendere loro case. Poi c'erano degli ebrei, e questo è un grosso problema, che sono stati un po' cancellati dalla storia da questo punto di vista, ma come abbiamo raccontato nella puntata in cui abbiamo parlato della storicità di Maometto, cosa pensano gli storici attuali, è possibilissimo che tribù ebraiche, gli arabi ebrei, o una volta arrivati in Palestina, forse anche proprio ebrei che avevano in Palestina, si siano uniti all'esercito per, da una parte anche qui razzia, dall'altra col desiderio di poter liberare, ottenere un miglioramento per la propria terra che era in quel momento occupata dai romani. Non dimentichiamoci che durante il periodo di Eraclio, il progressivo peggioramento della pace religiosa nell'impero raggiunse forse il suo culmine. Ora, noi siamo abituati sempre a pensare a un impero romano fortemente aperto verso le altre religioni, poi non è proprio sempre così, ma più o meno questo possiamo pensarlo. In realtà, man mano che il cristianesimo diventa religione sempre più forte, certi episodi di non accettazione di altre religioni diventano sempre più frequenti. Pensiamo a quanti episodi abbiamo raccontato nella serie di imperatori, in cui delle comunità pagane, dei tempi pagani, venivano attaccati. Inizialmente gli imperatori, anche se cristiani, cercavano di placare questi eventi, ad un certo punto questo non successe più. Anche a causa della mediazione di uomini molto importanti di fede, come ad esempio Sant'Ambrogio, che considerava l'attacco contro i pagani un qualcosa che era assolutamente legittimo. Durante il regno di Eraclio, tutto questo raggiunge poi il suo apice. Anche questo l'abbiamo raccontato nella serie di imperatori, se l'abbiamo detto. Il regno di Eraclio è il primo in cui veramente si parla quasi di una guerra santa per andare a riprendere Gerusalemme, in cui una volta presa Gerusalemme gli ebrei vengono puniti, costretti alla conversione, molti vengono massacrati. Potete capire che con uno spirito religioso di questo genere, a cui fa da contraltare lo spirito religioso dei Sasanidi, che anche loro nel tentativo di diffondere le parole di Zoroastro non ci andavano tanto per il sottile, diciamo che questo clima di rotta religiosa si era fatto decisamente acceso ed è quindi possibile che gruppi di ebrei si fossero uniti ovviamente a questo attacco. Poi, forse non tanto in questa prima fase, quanto qualche anno dopo, abbiamo anche dei gruppi di Sasanidi, o meglio di popolazioni persiane o della Mesopotamia, che ad un certo punto, o convertendosi o no, si uniranno agli arabi durante le razzie, spesso verso Levante. E poi c'è un'ultima cosa, ma questa ve la dico quando ci arriveremo, così potrete capire che c'è un'ultima piccola curiosità dal punto di vista religioso. Credo abbiate però capito come sarebbe avvenuto questo attacco, nella primavera del 634 l'ordine venne dato e le truppe musulmane si misero in marcia. La prima fase dell'invasione, le primissime settimane, furono favorevoli alle forze musulmane, le quali avanzarono nel territorio romano, ovviamente come vi dicevo iniziando ad aprirsi a ventaglio, avendo semplicemente dei piccoli scontri con le forze di arabe e cristiani locali, che però erano molto inferiori rispetto alle forze musulmane e quindi vennero facilmente sconfitti, ritirandosi verso nord, spesso peraltro portando con sé anche i propri familiari, che dovevano lasciare questi insediamenti, soprattutto quelli più sparsi, ritirandosi nelle città principali per chiudersi all'interno delle mura. I romani però, anche se non avevano delle truppe in loco, avevano però delle truppe che si trovavano in Siria, in particolare nella zona di Damasco e poi ancora più a nord nell'attuale città di Homs, l'antica Emesa, dove vi erano, secondo le fonti arabe, concentrate delle truppe romane, le quali, nel momento in cui Eraclio venne a sapere quello che stava succedendo, ricevettero l'ordine di iniziare ad assemblarsi e prepararsi al contrattacco. Ora, quante fossero queste truppe romane? Non lo sappiamo. Le fonti arabe, che abbiamo già detto nella scorsa puntata, tendono a ingigantire tantissimo le forze avversarie, ci parlano di 100.000 uomini. Calcolate, io faccio sempre questo paragone, che l'esercito romano più grosso ad aver mai combattuto contro i Sasanidi durante il regno di Eraclio era all'incirca un terzo di questo fantomatico esercito di 100.000 uomini e stava combattendo contro i Sasanidi, quindi stava combattendo una guerra per la propria sopravvivenza. Figuriamoci, secondo dei razziatori, mettevano in campo un esercito tre volte più grande. Secondo gli storici, questo primo esercito aveva al di più 10.000 uomini, quindi erano numeri veramente molto molto contenuti che lo rendevano più o meno due terzi delle forze musulmane che stavano avanzando verso nord. Ad ogni modo, il piano romano, è probabile che i romani, grazie agli arabi cristiani, avessero capito un po' quali fossero i piani musulmani, era in realtà abbastanza intelligente. Era quello di unire le truppe a nord in Siria, marciare lungo le coste, scendendo verso la Palestina, attaccare il braccio dell'attacco che si stava dirigendo in Palestina, per poi aggirare le forze arabe, tagliando loro la ritirata, per poi combattere quelle che erano invece salite in Siria. In questo modo, cercando di prendere un braccio dopo l'altro, impedendo loro di fuggire. Quando però il califo venne raggiunto dalla notizia di quello che stava succedendo, e credendo che i generali che aveva mandato durante questa campagna non sarebbero stati in grado di affrontare un esercito così grande, decise che aveva bisogno di quello che sembrava essere il suo miglior generale, cioè Khalid ibn al-Walid, il quale, come abbiamo raccontato, tra dicembre del 633 e gennaio del 644, aveva combattuto la sua battaglia più a nord, quella a Firaz, dove si era scontrato con forze romane e forze sasanidi, e poi era tornato ad Al-Ira, ex capitale del regno latmide, dove si era stabilito con le sue truppe. Quando venne a sapere quello che stava avvenendo in Siria, venne raggiunto anche dall'ordine di portare almeno 8.000 uomini il più velocemente possibile in Siria. Ora, i romani sapevano benissimo che ci fossero truppe arabe in Mesopotamia e dato che la strada più comunemente utilizzata per spostarsi dalla zona dell'attuale Iraq alla zona dell'attuale Siria era quello di seguire il corso delle Eufrate per poi muoversi verso sud, un giro lungo che però permetteva di passare attraverso terre dove vi fosse acqua e cibo per gli animali, avevano stabilito dei vari posti di controllo delle truppe che potessero rallentare gli arabi, sapendo ovviamente che prima o poi sarebbero comunque riusciti a passare, ma pensando di avere il tempo per distruggere l'esercito principale. Khalid ibn Walid però ha preso una strada completamente diversa e dove i romani pensavano che non sarebbe mai riuscito a passare, lui ci passò attraverso il deserto. Fece praticamente la strada più rapida che avrebbe potuto fare tracciando una riga sulla cartina, a cui i romani, ripeto, non avevano pensato perché si trattava di attraversare centinaia di chilometri di deserto, ma gli arabi lo fecero senza nessun problema. e molto più velocemente di quanto i romani fossero riusciti a pensare, riuscirono a portare le loro truppe nella Siria orientale, piombarono sulla città di Palmira, difesa senza riuscirci dalle truppe di arabi cristiani, riuscendo a sconfiggerle e impadronendosi della città. Khalid però fu velocissimo, non si fermò qui perché capì che più tempo avesse dato ai romani per potersi riorganizzare, più facilmente sarebbero stati sconfitti. Subito dopo aver preso Palmira, catturò una serie di insediamenti vicini. Poi, invece di dirigersi verso nord, come se sembrava a star facendo verso le forze romane, volse verso sud. Superò un passo, situato a nord di Damasco, che prese il nome di Al-Uqab, e sembrò puntare verso la capitale. Quel passo, peraltro, porta questo nome proprio a causa di questo avvenimento, perché si racconta che quando gli arabi si trovarono a passare attraverso quel passo molto stretto, lo trovarono occupato da forze degli arabi cristiani, forze gassanidi, chiamiamole così, le quali in realtà erano composte non solo da guerrieri, ma anche da tanti civili che li erano fuggiti. I combattimenti avvennero la domenica di Pasqua, e in realtà i musulmani piombarono loro addosso di sorpresa, li sconfissero molto rapidamente, e Khalid piantò il suo stendardo, che portava come segno un'aquila, curioso il legame, se ci pensate, con l'antica Roma, portava un'aquila, e quell'aquila diede proprio il nome al passo, perché il passo appunto adesso si chiama il passo dell'aquila. Una volta superato il passo, è sceso verso Damasco, città importantissima nella zona, però Khalid non vi si fermò, perché sapeva benissimo che con i suoi 8.000 uomini difficilmente avrebbe potuto conquistarla, e probabilmente i rinforzi romani sarebbero arrivati prima di quando lui potesse conquistare la città, e per questo, dopo aver mandato degli ordini agli altri, o meglio dei messaggi agli altri comandanti che stavano risalendo verso nord, li raggiunse alla città di Bosra. Ora, Bosra non era una città qualunque, era stata la capitale del regno dei Lakmidi, e anche se non era importante e ricca come Al-Hira, era probabilmente nella parte nord dell'Arabia la città più ricca che vi fosse. Le forze che erano avanzate da sud avevano già cercato di catturarla, l'avevano messa sotto assedio, erano rimaste qui bloccate in un lungo assedio che non aveva dato nessun risultato, e non erano fino a quel momento riuscite a cavare un ragno dal buco. Quando i romani, che in realtà erano pochi, probabilmente erano quasi tutti arabi cristiani, se però però che stava arrivando questo esercito di rinforzo da nord, chissà come, probabilmente qualche spia, decisero di provare a dare battaglia, uscirono fuori dalle mura della città e attaccarono l'esercito arabo che si trovava di fronte. Lo scontro inizialmente sembrò vedere la vittoria dei cristiani, quando improvvisamente sul campo di battaglia arrivarono le forze di Khalid, che aveva sentito da lontano il rumore dello scontro, aveva spinto la sua cavalleria in avanti ed era riuscito a sconfiggere le forze avversarie. Ora, questa descrizione di battaglia è, come potete immaginare, poco credibile, anche perché, secondo gli arabi, ancora una volta a Bosra c'erano più soldati di quanti fossero gli arabi fuori. Io credo di aver mai visto una città con più soldati dentro, soldati e non civili, di quanti siano quelli fuori che assegliano. Però, insomma, questo dobbiamo raccontare secondo il loro racconto. L'arrivo di Khalid, però, ovviamente ribaltò questa situazione. Le forze cristiane tornarono a uscire fuori il giorno dopo per cercare di scacciare le forze arabe, ma questa volta Khalid non permise loro di rientrare se non dopo aver subito delle perdite gigantesche. Non esistono descrizioni di questa battaglia molto chiara. Sappiamo che però quello che era fino a quel momento il comandante dell'esercito arabo che aveva ricevuto l'ordine da Abu Bakr di comandare le truppe degli arabi, quando vide arrivare Khalid, gli andò incontro e gli portò uno stendardo di colore giallo il quale disse essere stato in passato uno stendardo di maometto. in questo modo sostanzialmente affidando a Khalid quello che era il comando delle truppe. Probabilmente l'ordine arrivava da Abu Bakr anche perché i comandanti che avevano guidato questa spedizione erano tutti uomini che erano stati molto vicini a maometto. Parliamo di convertiti della primissima ora. Khalid, lo abbiamo raccontato, è un convertito molto tardivo ma credo sia un modo per raccontare il fatto che ad un certo punto si resero conto di aver bisogno di uomini di esperienza per poter condurre questa campagna. Ovviamente come spesso capita a questi racconti ci sono poi tutta una serie di racconti leggendari ad esempio si racconta che un guerriero fosse diventato arabo ovviamente ad un certo punto accaldato si fosse tolto la cotta di maglia tolto il vestito e avesse continuato a combattere a petto nudo. Peraltro era il comandante di una delle duali di cavalleria di Khalid e combattendo a petto nudo avrebbe sconfitto un sacco di nemici. Da questo momento anche nelle battaglie successive avrebbe continuato a combattere in questo modo diventando il terrore dei romani. Capite che sono tutti quei piccoli racconti che sanno ovviamente molto di leggendario. La città si arrese di lì a pochi giorni e su questo ci sono due racconti diversi. Il primo dice che la città si arrese semplicemente rendendosi conto di non poter ricevere nessun tipo di aiuto. Un altro dice invece che il comandante romano della città avrebbe ad un certo punto deciso di convertirsi all'islam sarebbe uscito nottetempo e avrebbe informato guidato poi i musulmani all'interno facendo in questo modo cadere la città. Quale che sia la realtà la città si consegnò nelle mani di Khalid il quale ovviamente fece un grande bottino una parte la spedì in Arabia e soprattutto prese il controllo della città i cui cittadini si convertirono in massa no iniziarono semplicemente a pagare una tassa. Ora questo aspetto io ve l'ho già accennato in passato ma vorrei che fosse molto chiaro perché è veramente molto interessante come aspetto in questa prima fase dell'espansione araba così come viene raccontata le conversioni non furono così tante non furono massive cioè non è che gli arabi arrivavano conquistavano una città e la popolazione si convertiva in massa o veniva obbligata a convertirsi in massa no assolutamente la popolazione veniva occupata talvolta veniva sottoposta razzia talvolta venivano presi schiavi e quant'altro ma poi la popolazione che seguiva un'altra religione rimaneva tale perché pagava una tassa più alta ora è anche possibile come pensano alcuni storici che in realtà molti di questi razziatori musulmani preferissero questa condizione perché se i musulmani se i cristiani gli ebrei si convertivano all'islam non solo smettevano di pagare la tassa e questo era un problema ma soprattutto spesso si univano alle forze musulmane e questo voleva dire avere più persone con cui spartire il bottino capite che la solita narrazione di una forte espansione religiosa da questo punto di vista scricchiola un pochettino ad ogni modo la caduta di Bosdra era ovviamente stato un grosso colpo dal punto di vista propagandistico perché come vi dicevo ora i musulmani avevano nelle mani le due principali città degli arabi del nord degli arabi cristiani e la cosa sicuramente dal punto di vista propagandistico come vi dicevo aveva un grosso effetto i romani a questo punto cercarono di mettere in piedi quella controffensiva che stavano preparando c'era voluto del tempo le armate si erano mosse lentamente ma finalmente secondo la tradizione araba nel luglio del 634 un esercito cristiano addirittura forte appunto di 90 100.000 uomini guidati da Teodoro che era fratello o fratellastro di Eraclio si sarebbe presentato per scontrarsi contro le forze di Khalid ora questa battaglia è una battaglia particolare perché non siamo sicuri che sia reale ma siamo sicuri che sia successo qualcosa di simile mi spiego secondo le fonti arabe la battaglia sarebbe la battaglia di Ajinadain o Aina Dain la pronuncia è un po' a metà tra queste due scegliete voi quale preferite una battaglia in cui ancora una volta le forze arabe guidate da Khalid e Ibn Walid sarebbero riuscite ad ottenere la meglio annientando l'esercito romano i cui resti sarebbero fuggiti andandosi a rinchiudere nelle principali fortezze ora non abbiamo un racconto cristiano che ci racconti di questa battaglia soprattutto così a sud abbiamo però dei racconti cristiani che accennano ad una possibile sconfitta patita da Teodoro ma in ottobre quindi qualche mese dopo perché però vi dicevo che anche se non abbiamo certezza che questa battaglia sia mai avvenuta peraltro anche le fonti arabe non è che la descrissero la descrivano tantissimo sono molto meno precise rispetto ad altre battaglie però sappiamo che qualcosa è avvenuto lo sappiamo perché nei mesi successivi i romani non riuscirono più a intervenire nella regione cioè se prima avevamo delle forze romane che cercavano quantomeno di rallentare le forze musulmane nei mesi successivi invece questo non succederà più e ci vorrà parecchio parecchi mesi prima che i romani riescano ad assemblare un nuovo esercito quindi ripeto probabilmente una qualche forma di sconfitta ci sia stata quali fossero i numeri non lo sappiamo dove si è effettivamente avvenuto questo scontro non lo sappiamo ma è possibilissimo che il racconto arabo stiera alta dicendo la verità non abbiamo però ovviamente la conferma ad ogni modo dopo questa vittoria Khalid si trovò ad avere campo libero una parte delle sue forze tornate sotto il controllo degli altri comandanti si occupò di conquistare tutta una serie di città fortificate e fortezze mentre lui si spinse verso nord cercando di puntare a Damasco che in quel momento era tenuta da un comandante romano chiamato Tommaso anche qui la tradizione araba ci dice che questo Tommaso era il genero dell'imperatore Eraclio perché ne aveva sposato la figlia la cosa è poco credibile perché perché Eraclio non aveva figlie di che sappiamo essere andate in sposa a un certo Tommaso non viene mai nominato questo Tommaso in altre fonti insomma il genero dell'imperatore qualche nomina dovrebbe anche avere e soprattutto è poco credibile che una figlia dell'imperatore finisca in sposa ad un comandante regionale di così basso livello è un po' poco credibile è possibile che questo Tommaso fosse semplicemente un patrizio magari lontanamente imparentato con Eraclio e le fonti arabe abbiano poi creato tutta questa storia intorno che in effetti prosegue anche dopo Tommaso ad ogni modo capì ben presto che la città di Damasco non era pronta per un assedio non aveva abbastanza rifornimenti non aveva abbastanza truppe e per poter dar tempo di far affluire altre truppe decise di mandare una parte delle sue verso sud per rallentare le forze di Khalid che riuscirono ovviamente sconfiggere ma ne vennero abbastanza rallentate da permettere di fortificare meglio Damasco e di prepararsi ad un assedio il 21 di agosto le forze musulmane quindi sono sotto le mura della città non sappiamo esattamente quanti fossero i musulmani si stima anche basandosi appunto sulle fonti arabe che fossero 10-12 mila al massimo forse anche un po' meno 8 mila non è ben chiaro non sono proprio perfettamente coincidenti le fonti erano sicuramente molti meno romani pare che fossero al massimo 5 mila anche se Tommaso aveva mandato richieste di aiuto verso nord e aspettava che un nuovo esercito venisse mandato ad aiutarlo la prima fase dell'assedio quindi iniziò in maniera molto lenta anche perché gli arabi non avevano macchine d'assedio quindi erano costretti a mettersi intorno a questa città Damasco che era comunque ben fortificata tagliandole qualunque via di rifornimento aspettando che la città si arrendesse Khalid ad un certo punto venne a sapere che un primo esercito di rinforzo era stato assemblato era stato mandato verso sud ma fu abbastanza rapido da intercettarlo ancora una volta al passo di Alucab l'abbiamo già citato prima al passo dell'Aquila che già da lui prendeva il nome e anche questa volta riuscendo ad ottenere una vittoria in questo modo isolando completamente Damasco Tommaso dall'interno capì ben presto che i rifornimenti sarebbero presto finiti anche perché come potete capire non è che fosse riuscito a mettere da parte chissà quante grandi quantità di cibo teniamo sempre presente che sono territori che venivano attraversati dalla guerra da decenni oltre che essere territori non così ricchi dal punto di vista agricolo e che quindi facevano molta difficoltà ad accumulare derrate alimentari ed acqua ad un certo punto Tommaso decise di provare una sortita ci provò una prima volta concentrando tutte le sue truppe da un'unica porta e cercando in questo modo di sfondare le difese arabe lì di fronte ma Calide fu molto rapido a far concentrare le sue truppe Tommaso che si beccò peraltro una freccia molto vicina all'occhio fu costretto a rientrare e la sortita fallì qualche giorno dopo ci riprovò questa volta facendo il contrario dividendo le sue truppe tra le varie forze attaccando in varie direzioni e una volta identificato il punto di maggior debolezza degli arabi concentrando le sue forze in quella direzione questa volta l'esercito arabo tentennò ma ancora una volta Calide riuscì a concentrare rapidamente le sue forze ricacciando indietro i romani e riprendendo l'assedio come potete notare il grosso vantaggio degli arabi era legato all'aspetto della loro mobilità la loro cavalleria era molto rapida e riusciva ad intervenire laddove era necessario aggiungiamoci che se gli eserciti romani facevano fatica a procurarsi rifornimenti e ad attraversare certi territori le forze arabe che invece nel deserto ci vivevano avevano molta più facilità a farlo e questo rappresentava un vantaggio semplicemente gigantesco ad ogni modo la città si arrenderà a settembre quindi dopo circa un mese secondo la tradizione a causa di un tradimento un tradimento che secondo alcuni storici ci racconta invece un aspetto di storia molto interessante partiamo dalla versione ufficiale tra virgolette secondo la versione ufficiale un prete monofisita quindi che seguiva l'eresia monofisita molto diffusa in Siria e in Egitto ad un certo punto avrebbe deciso di volersi salvare la vita non solo la sua ma anche quella della sua fidanzata che peraltro pare che fosse trattenuta in città e i due non riuscivano neanche a incontrarsi ad un certo punto avrebbe lasciato la città si sarebbe recato nel campo di Khalid e gli avrebbe rivelato di potergli insegnare come entrare di nascosto in città e quale fosse il momento migliore in cambio della salvezza per lui e per la sua fidanzata Khalid accettò il prete peraltro si convertì anche all'islam per sancire ancora di più questa cosa e gli raccontò che di lì a poche sere ci sarebbe stata una festa una festa religiosa molto importante cosa che probabilmente avrebbe attirato una parte delle sentinelle sugli spalti alla festa e questo gli avrebbe permesso di attaccare di notte sarebbe stato lui a guidare lo stesso Khalid e un manipolo dei suoi sulle mura dal lato oeste di Damasco per permettere loro di entrare e così fu Khalid insieme a un centinaio dei suoi scalò le mura entrò all'interno della città iniziò a combattere le forze romane in loco cercando di aprire le porte e quando Tommaso si accorse di quello che stava accadendo e si rese conto che la città sarebbe presto caduta prese una decisione apparentemente inspiegabile prese le sue truppe si spostò dall'altra parte della città e chiese di parlare con il parlamentare con il secondo in comando di Khalid una volta che i due iniziarono a parlare Tommaso gli propose la resa gli disse se volete io mi arrendo i miei uomini non combatteranno più ma in cambio voi dovete concedere la salvezza alla città prenderla facendogli pagare la tassa ma senza far nessun tipo di razzia e soprattutto permettere a me al mio seguito secondo la leggenda araba anche alla figlia di Arachio al vescovo ai maggiorenti della città di lasciare la città e potersene andare indisturbati il secondo in comando di Khalid accettò e quando Khalid venne a sapere quello che stava accadendo inizialmente si infuriò perché disse noi la città non l'abbiamo conquistata per resa l'abbiamo conquistata per conquista tradotto possiamo razziarla possiamo prendere schiavi possiamo farla diventare nostra ma ovviamente non volle tradire quello che era stato il giuramento del suo secondo e accettò questa decisione in questo modo Damasco passò agli arabi musulmani in realtà però Khalid in qualche modo giocò il suo avversario perché secondo quello che raccontano le stesse fonti arabe proprio a causa di questo modo in cui era stata raggiunta la caduta della città disse a Tommaso che i giorni che gli concedeva di tregua erano tre e non più di tre quindi doveva sbrigarsi lui e il suo convoglio a dirigersi verso la città più vicina Tommaso si mosse verso Antiochia ma Giovanni Giovanni il monofisita il solito prete che già aveva tradito una volta andò da Khalid e gli svelò che c'era una strada molto più rapida per raggiungere Antiochia con la quale avrebbe potuto raggiungere Tommaso e così Khalid fece tre giorni dopo si gettò all'inseguimento e raggiunto Tommaso a circa 300 km dalla città di Damasco lo attaccò e lo fece peraltro mandando prima una parte delle sue truppe oltre il convoglio romano per poi attaccare da due direzioni in modo non solo da sconfiggere i romani peraltro paro uccidendo lo stesso Tommaso ma catturando tutto quello che si erano portati via secondo la tradizione questa famosa figlia di Eraclio che ripeto probabilmente non è mai esistita ma soprattutto facendo un bottino gigantesco tanto che quella battaglia viene chiamata la battaglia dei prati di broccato perché non lo sapesse il broccato è un tessuto molto prezioso e pare che avessero trovato grandi quantità di questo broccato come conquista cosa ci dice questo racconto? beh secondo alcuni storici introduce un nuovo aspetto nella storia delle conquiste arabe cioè l'influenza dei monofisiti ora l'abbiamo già raccontato mille volte in imperatore se vi rimando lì i monofisiti erano un'eresia all'interno dell'impero romano il credo ufficiale era quello dei cosiddetti duofisiti un'eresia che si differenziava per l'interpretazione della natura di Cristo umana divina come le due cose erano mischiate bene un credo che era molto diffuso in Siria e in Egitto che aveva vissuto vari livelli di accettazione all'interno dell'impero e che negli ultimi anni era stato nuovamente perseguitato bene è possibile che questo racconto del prete monofisita in realtà serva a raccontare in forma mitologica più facile da comprendere il fatto che quando gli arabi musulmani invasero questi territori i monofisiti non dimenticatevi che secondo gli storici l'islam altro non era che una nuova versione di credi monoteistici che già erano diffusi l'ebraismo il cristianesimo che erano stati riformati da Mahometto ma che inizialmente non erano ancora così diversi bene è possibile che molti di questi monofisiti si sentissero molto più affini all'islam di quanto si sentivano invece al credo ufficiale duofisita che si faceva a Costantinopoli e che proprio per questo si fossero uniti a loro aprendo loro le porte quasi in una riedizione o meglio di un anticipo di un detto che ci sarà poi in periodo medievale quando molte comunità ortodosse preferivano finire sotto i turchi ottomani che sotto Venezia per intenderci in cui si diceva che se c'era da scegliere era molto meglio il turbante della mitra ora qui non c'erano della mitra del turbante ma credo abbiate capito dove andiamo a parare quindi secondo molti storici questo ci fa capire come in realtà le comunità monofisite presenti in queste zone fossero molto contente nell'arrivo di questi musulmani perché preferivano i musulmani alle pesantissime tasse imposte dall'impero romano e soprattutto alle persecuzioni religiose che c'erano state negli ultimi anni musulmani facevano pagare una tassa probabilmente lasciavano anche piena libertà di culto e questo era decisamente preferibile capite come dal punto di vista anche politico la religione acquisisca un ruolo molto più importante di quando era prima siamo arrivati a settembre del 634 ho raccontato mille cose ma ufficialmente sono passati pochissimi mesi nel giro di pochissimi mesi la mare araba è montata e ha raggiunto Damasco a questo punto succedono due cose ve le butto lì ma le riprenderemo poi nelle prossime puntate la prima nell'agosto del 634 è morto Abu Bakr lo abbiamo raccontato venerdì il suo successore Umar una delle prime cose che fa è sollevare Khalid dall'incarico di comandare tutte le truppe musulmane nella zona del Levante non è che se lo richiama a casa non è che gli toglie i poteri no riaffida ad altri il comando generale Khalid non se ne andrà da lì il nuovo comandante che sapeva bene quanto era valido gli affiderà comunque il comando della cavalleria e se lo terrà molto vicino e presto Khalid tornerà a comandare perché era di gran lunga il miglior comandante il secondo punto anche questo lo svilupperemo meglio nelle prossime puntate l'impero romano e l'impero sasanide inizierono a capire di avere un nemico in comune e inizierono a parlarsi inizierono a far diplomazia fra di loro inizierono a discutere di una possibile alleanza per rimandare indietro questi arabi e quell'alleanza sarà poi sancita nel 635 con un matrimonio reale tra la nipote di Eraclio e il giovanissimo imperatore dell'impero sasanide ma di questo ne parleremo e ovviamente questa alleanza rappresenterà una grossa minaccia per gli arabi come andranno le cose lo racconteremo nelle prossime puntate io per ora però mi fermo qua vi ringrazio tantissimo per avermi seguito spero di essere riuscito ad essere chiaro ci rivediamo la prossima settimana per altre due puntate per andare avanti con questa storia come sempre taglio un po' di eventi secondari cerco solo di darvi il quadro generale ma qui ovviamente c'erano veramente tanti tanti eventi come sempre un grandissimo ringraziamento ad abbonati Patreon e chi fa donazioni sul conto Paypal perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo a produrre nuovo materiale a disposizione di tutti in particolare oggi vorrei ringraziare Mario M grazie mille tantissimo per il tuo supporto per il resto come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà bella fantasia di mettere nelle loro opere e se volete curiosare tra qualcuna di queste storie qui a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con la nuova pillola di storia a presto ciao ciao ciao